Si sono ritrovati in assemblea sindacale alla Camera di Commercio, nonostante i loro contratti siano scaduti lo scorso 31 dicembre 41 precari dell'ente per reclamare i loro diritti e decidere di concerto con i rappresentanti sindacali le azioni da intraprendere. A causa infatti dell'entrata in vigore del decreto legislativo 219 del 2016 di riforma delle Camere di Commercio, i contratti del personale a tempo determinato non sono stati prorogati, una situazione che in Sicilia riguarda 82 lavoratori. Un disagio per i lavoratori e le loro famiglie che si riflette anche sui servizi all'utenza che a partire da oggi subiranno rallentamenti o la sospensione temporanea, ad eccezione di quelli online che saranno erogati regolarmente. Noi stessi abbiamo detto ai lavoratori di venire a lavorare oggi perché secondo noi non esistevano le ragioni di tale bancato rinnovo contrattuale. Nei giorni scorsi in tempi utili abbiamo chiesto all'ente camerale di provvedere alla proroga dei contratti proprio in presenza di una legge regionale che stabiliva la proroga e di una legge nazionale che la risosteneva. Loro ci hanno risposto dicendo che aspettano un intervento nulla ossa dell'assessorato delle attività produttive del Ministero per lo sviluppo e a noi questa risposta non ci basta perché la riteniamo inutile e anche poco congua. Considerando il fatto che questi lavoratori non solo si ritrovano a non aver continuato la loro attività lavorativa ma anche l'utenza viene pregiudicata da questo mancato rinnovo. Ricevuti dal segretario generale Guido Barcellona i precari e i sindacati hanno espresso le loro perplessità sulla mancata proroga dei contratti. In questo momento la Camera di Commercio subisce come tutte le Camere di Commercio italiane la riforma del sistema camerale. La legge 219 del 25 novembre 2016 entrata in vigore il 10 dicembre 2016 all'articolo 3,9 vieta qualunque tipo di rapporto di lavoro a far data appunto dall'11 dicembre. Questa proroga per quanto diciamo sia un atto come dire di innovazione del contratto di lavoro o sia un atto comunque di proroga appunto di questo personale impatta con questo divieto imposto e che è un divieto come dire tassativo. Ciò non toglie che l'amministrazione della Camera di Commercio spera e ritiene che la norma regionale di proroga possa in qualche modo superare questo problema e quindi risolversi il problema del personale precario della Camera di Commercio Caltanisetta che potrebbe appunto, grazie a un chiarimento che potesse arrivare dall'assessorato, dalla Regione e anche dal Ministero, grazie a questo chiarimento si potrebbe superare questa problematica. Intanto i lavoratori e i sindacati che hanno deciso di chiedere un incontro urgente al Prefetto si ritroveranno in sit-in ed innanzi la Camera di Commercio martedì 3 gennaio a partire dalle ore 9.